Sa come si fa la marmellata con frutta zuccherata e un po' di licuorao? Sa come si fa la cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao? Cacao, cacao, cacao dal gusto esagerato Cacao, 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 però cacao meravigliato Cacao, meravigliato, che meraviglioso cacao, meravigliato Cacao, contro e gustavo, delicassavo, spregiudicavo e depressavo Lo sa o non lo sa, ci fa impazzato sto cacao meravigliato Cacao, 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 che meraviglia sto cacao meravigliato Cacao, cacao, meravigliao, che meraviglia sto cacao meravigliao Cacao, contro e gustavo, delicassavo, spregiudicavo e depressavo Lo sa o non lo sa, ci fa impazzato sto cacao meravigliao Cacao, 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 lo sponsorà o della nostra trasmissa o Che momento meraviglioso! Grazie mille a tutti, abbiamo finito! Ci vediamo giovedì prossimo, fate un applauso a Calcutta e Paola Cortellesi!